10 arresti nel basso salento sono stati eseguiti questa notte dai carabinieri del comando provinciale di lecce tra loro anche un poliziotto che dovrà rispondere di favoreggiamento per gli altri le accuse sono di concorso in rapine spaccio di sostanze stupefacenti sgominata quindi la banda degli specialisti che nella sola estate del 2008 aveva assaltato 20 distributori di benzina seminando terrore in tutto il sud salento 14 rapine assegno e 6 tentate i proventi venivano poi riciclati per l'acquisto e lo spaccio di cocaina e altra droga la retata è arrivata al termine di sette mesi di indagini dal settembre del 2008 fino al maggio del 2009 iniziate grazie ad una telefonata partita da un cellulare sottratto al titolare di un rivenditore di benzina a diso al blitz che ha portato all'esecuzione di nove ordinanze cautelari la decima è a carico di un albanese non ritracciato poiché è rientrato nel suo paese hanno partecipato un centinaio di militari unità cinofile ed un elicottero il poliziotto coinvolto un assistente capo in servizio presso il commissariato di gallipoli zio di uno dei due principali indagati e i domiciliari in particolare pare che in due circostanze abbia riferito ai rapinatori delle indagini che i carabinieri della stazione di tricase stavano svolgendo per rintracciare alcune auto rubate utilizzate durante le rapine